Non proprio di prostituzione di strato, ma una prostituzione attraverso i sogni, questa tv mediatica che riesce a trasformare ragazzini, veramente oggi in robot, dove vediamo fenomeni televisivi dove non ci insegnano niente, ma cercano di creare dei sogni che alla fine praticamente diventano degli incubi per queste ragazze. Tornando al discorso Prestipino, la dottoressa Prestipino, io spero di incontrarmi al più presto e di continuare insieme questa battaglia mettendo su un convegno e poter ancora dire la nostra a quanto questo fenomeno. Non era effettivamente un attacco alla Presidente, però il problema è che quello che è stato fatto non si risolve questo problema, perché iniziative del genere ne sono state fatte tantissime, ne sono state organizzate, però effettivamente in qualche modo denotava forse una scarsa conoscenza del problema, effettivamente il fenomeno stesso e il fatto di mettere dei manifesti fine a se stessi. Ci vuole un'attività diversa di prevenzione e anche di repressione, perché no? Però bisogna combattere soprattutto oltre che l'offerta anche la richiesta, perché senza la richiesta chiaramente non ci sarebbe l'offerta, ma non è tanto l'offerta. Il problema è che l'altro giorno ho ricevuto una mail quasi di protesta, direi una cosa un po' più generale, però in questa mail di un lettore, di un internauta, chiamiamolo così, che aveva seguito un po' le mie vicende su internet come direttore di Dallimedia.it e mi attaccava dicendo che io ero contro le lucciole. Io voglio ribadire una cosa, non sono contro le lucciole, ma sono contro il sistema che si crea dietro di sfruttamento, il sistema delinquenziale che appunto in qualche modo avvolge e stritola, anche sfrutta, ma stritola proprio anche la personalità e la vita stessa di queste ragazze. Che poi è una cosa che noi parliamo sempre di lucciole o di ragazze, ma c'è il sistema per esempio della protezione dei transessuali, è molto più sitolato dal fenomeno dell'asfruttamento, addirittura ancora di più rispetto a quello delle donne, delle ragazze, perciò si passa sempre in secondo piano anche quell'altro aspetto. Invece ci sono dei dati di cui sono in possesso.